La maggior parte delle persone ha avuto un'infanzia felice, per me è stato il periodo più difficile. Ma non c'è alcun bisogno ora di ripiombare nel buio. Siete sicure di sapere utilizzare quell'aggeggio? Certamente. Sono nata a San Pietroburgo nel 1861, unica e più giovane figlia femmina dopo cinque fratelli. Mio padre voleva fortemente una figlia, ma mia madre avrebbe senz'altro preferito una mezza torsina di figli maschi.